Sulle regionali, cioè tu punti al secondo posto ovunque e ti prepari all'Italicum? Guarda, va bene, va bene tutto, va bene così. Guarda, la gente comincia a capire che noi stiamo facendo una rivoluzione, mettendo delle persone per bene al posto dove non ci sono mai state. Ma perché il PD non lo vuole, il regio di cittadinanza? Ma non è che non lo vuole, ci vuole mettere, vuole cambiare il nome, vuole mettersi in minimo garantito di povertà, lo facciamo così, fanno il titolo, poi lo prendo, poi sarà una loro idea, lo scarnificano. E' più onesto Maroni? Forse sì, forse sì, forse sì. Glielo ho detto il primo giorno quando l'ho visto in faccia, gli ho stretto la mano, ho detto tu sei uno che mente, e quando io non posso sedermi in un tavolo con uno che mente, guardandoti col sorriso. Il PD masochista, un po', un po', ti piace? Ma no, no, guarda, non è, lì c'è il livore, non c'è il masochismo, non si fanno del male quelli del PD, c'è un livore tra loro e noi, c'è questo livore che lo senti nei rapporti umani, ti guardano in faccia ma pensano un'altra cosa e fanno un'altra cosa. Ma tu con Fazzina ti sederesti a parlare di economia? Ma io mi siedo a parlare con chiunque, ma io non sono un economista. Ma voglio dire, ma di che cosa parlo con queste persone qua? Poi se parlo col tassista ho una visione più completa di un paese. Cioè tutti questi specialisti, cattedratici, laureati alla Bocconi, quando vai non hanno azzeccato una, non hanno l'umiltà di dire abbiamo sbagliato perché hanno un'autostima a livelli enormi. E allora che un comico, un ex comico, possa dare una diagnosi economica magari più giusta, perché magari l'ho letto, mi informo, non perché sia più intelligente o più colpo. Non l'accetteranno mai. Come non accettano il fatto che noi siamo persone perbene. Dietro devono vedere qualcosa, non ce l'hanno nel DNA. Come fanno a capire uno, come me, Casaleggio, quelli del movimento che lavorano senza soldi, senza, anzi rimettendoci? Allora capisci che sono persone che non riescono a capire che uno può fare delle cose anche per gli altri. Grazie per tutto.